Grazza naturale sui campi Flegrei, luogo al centro tra mare, scavi archeologici e chiesa, Monte di Procida per il Tg itinerante. Un piatto moderno invece dal passato all'oggi, al presente, la C-steak. Sì, C-steak che è nata dalla contaminazione della cultura e della cucina americana con quella montesa. Perché molti montesi, lo ricordiamo, sono emigrati in America. Sono in America e noi abbiamo importato questa cultura, l'abbiamo un po' rivisitata oggi. Questo si tratta di un panino che viene cucinato su piastra attraverso la fusione di carne e formaggio, aggiungendo un po' però tutti quelli che sono i nostri ingredienti, ingredienti della nostra terra, pomodori, peperoni, insalate e quant'altro. Dobbiamo dire una cosa importante, oggi questo prodotto unico e di alta qualità è tutelato da un consorzio che tutela sia i macellai, che i panettiere, che i ristoratori.